La qualità delle cure, va innanzitutto detto, non è omogenea su tutto il territorio nazionale. Infatti c'è una carenza di centri specializzati nel trattamento di questa patologia, soprattutto al centro-sud. Ci sono dei dati che evidenziano questa situazione, per esempio nel caso delle cure chirurgiche. In Lombardia il 30% degli interventi di asportazione del tumore del pancreas viene effettuato su pazienti fuori regione. Non ho il numero preciso nel caso del Veneto, però saranno numeri verosimilmente similari. Quindi abbiamo una situazione di disomogeneità delle cure sul territorio nazionale. Inoltre, l'80% delle diagnosi di tumore al pancreas evidenziano che il tumore non è immediatamente operabile e quindi l'oncologia diventa la disciplina medica di riferimento. Ora, purtroppo, il numero di oncologi specializzati sul tumore del pancreas sul territorio nazionale sono molto pochi. Quindi questo ha un evidente impatto sulla qualità delle cure e anche sulla qualità della vita dei pazienti. Qualità della vita, che dovrebbe essere un parametro, una dimensione che fa da collante su tutto il percorso di cura, in realtà dal punto dell'efficacia reale dell'attenzione a questo parametro è molto limitata. Lo vediamo perché discipline come la nutrizione, importantissima nel tumore del pancreas, vitale, oppure la terapia del dolore o il supporto psicologico, che non sia la mera pacca sulla spalla, non fa parte di una cultura diffusa durante il periodo di cura del tumore del pancreas. Grazie.